Benvenuti, benvenuti Buonasera, buonasera Buonasera a tutti Buonasera a tutti Aspettiamo che intanto approfitto e prendo il link della live e lo ricondivido su Instagram Va bene, va bene Ah, no, no Intanto c'è uno spoiler di cosa sta per succedere Eh, sì, 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 esatto Voglio pure illustrare Abbiamo subito qua il titolo per il campione KFC detenuto attualmente da Ronaldinho e il quale è stato sfidato da Mr. Marra Esattamente Mr. Marra informissima direi dopo le ultime prestazioni Incontri, se non mi sbaglio tag team, insieme ai suoi compagni del Cerbero Podcast mi ricordo molto bene Rischiate di perdervi un passaggio perché se vi ricordate bene il campione KFC era Giancina Giusto Eh, no, infatti Dobbiamo iniziare subito con una notizia Giusto Una pessima notizia Troppo C'è arrivata notizia da Atlanta Esatto Dal bollettino di Atlanta Giancina è morto È morto È morto È morto È morto È morto È Buone fine è una grande carriera Forse non avremo più come lui nel mondo del wrestling Forse ucciso dopo la cringelata degli Oscar Probabilmente Cioè ha mostrato il suo fisico e qualcuno ha voluto incidere quel fisico e purtroppo può definire la sua esistenza quindi Sina ci ha abbandonato ma noi siamo qua non per farvi compagnia e per vivere questo lutto insieme con la Klaus ed è quello che avrebbe voluto esatto anche lui avrebbe desiderato questo lui amava il wrestling lui sarebbe voluto essere un bodybuilder ma poi ha ripiegato sul wrestling e è diventato uno dei più grandi di sempre dedichiamo questa puntata a Giancina che tutti grazie non c'è più grazie grazie mille anche Mr. Malra che è nato negli anni 2000 con la smackdown dell'Italia 1 ha deciso di tributare Giancina cercando di sfidare Ronaldinho Ronaldinho in formissima tra l'altro ex campione che vedremo adesso se riuscirà a riguadagnarsi la cintura il titolo al momento è vagante ciao ragazzi ciao 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 è stato umiliato io devo ammetterlo sono molto deluso della sua prestazione non mi aspettavo una prestazione del genere da un personaggio di questo carico però se la vedrà con i bruiser di questa di questa federazione uno dei più esperti uno dei più no levigati un veterano delle battaglie di strada abitanti di venire street fighter solido negli suoi incontri però anche lui non ha aggiunto mi hanno dipendito allora non voglio rovinare la bellissima intimo ok ti sento un po' basso è il solito Niccolò esatto alza un po' il volume vediamo un po' adesso va un po' meglio potentissimo aiutaci anche cioè se senti bene perché abbiamo un altro ragazzo e ovviamente anche ricca se le tre voci sono bilanciate mi senti? mi senti? tanto Brizio è uno che fa live con noi ancora ancora leggermente ok prova un po' un pochino ok ok provo a parlare te Matti vediamo se ci siamo prova 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 lui lo senti bene? ok comunque speriamo di esserci allora è molto basso che si va col mixing ma mi devo aumentare da solo senza noi allora lui è al 100% però dimmi ah bravo vai ora vai ora? prova 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 non lo so se è cambiato tanto perché noi siamo molto più alti di lui avendo assetto eh io sono però si può fare eh in qualche modo come si fa? dispositivo di input no adesso forse va un po' meglio speriamo proviamo 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 ma io credo che entri per forza Matti poi prova a abbassare leggermente il nostro magari però il problema è che si sente basso lui non è il problema il massimo si alza Matti è proprio col suo eh sì infatti io la trovo in qualche modo vediamo un po' grazie sì grazie sì grazie sì perché così almeno indifferita diventa più godibile vediamo un po' raga forse dovete abbassare il volume del tipo in chiamata addirittura eh vediamo un po' mi sentite ora? io metto una cosa nel mezzo quindi così dovrebbe essere con un 140% di percentuale forse così va un po' meglio prova prova la sua voce è potentissima lui ha un potere la sua voce è potentissima ok vediamo un po' di sopra sta fa la sua bravo esatto adesso però non credo vediamo un po' è stato diminuito è stato diminuito prova prova aiutaci anche te il lato scuro così almeno possiamo proseguire meglio perfetto oh grazie il team di commento si è aggiustato adesso è pronto per questa puntata c'è anch'io e terroi murri di Radio Evo vediamo sicuramente ricordiamo a Tommaso di aggiungere Mattia Serovalle come collaboratore la prossima volta quindi il prossimo match sarà invece il debutto di un ah strepitoso Mahatma Gandhi e Crump contro chat Gable e Contemplator esatto ricordiamo che Tommaso non sarà presente in questa puntata mi dispiace lato scuro però chissà non sappiamo cosa succederà quindi tag team tra Mahatma Gandhi e Crump che ci è stato detto appartengono a un gruppo no? un gruppo di cui forse blasfemo parlare sì io direi di stare attenti con le parole esatto dobbiamo dire qualcosa non lo so esatto intanto ci fanno complimenti in chat e contro invece il team chissà se è improvvisato con una certa intesa tra Chat Gable e Contemplator posso chiedere una cosa a voi altri due che forse siete più informati chi è Contemplator? allora sappiamo solo che Contemplator ha origini romane antiche ha dichiarato questa cosa come sia possibile che lui sia riuscito ad arrivare fino a 2024 ci ha sconosciuto conservando i suoi origini cioè voglio dire non ti capita di andare per la strada e chiedere uno te da dove vieni e uno ti dice io vengo da sono un finiscio cioè non succede questa cosa però il suo accento latino classico perfetto sembra si sembra fermare esatto chissà che non sia magari un veterano delle battaglie del Colosseo potrebbe succedere o un grande un grande compagno di sniffate di colla di Edge questo non sappiamo potrebbe anche darsi che magari è semplicemente un grande pattone che sta raccontando stronzate poterci non lo possiamo sapere lo scopriamo insieme mentre ricordiamo che nella scorsa puntata uomo d'affari ha vinto la battle royale che gli ha permesso di diventare il number one contender al titolo di cazzo in shibata in shibata ok vi rompo le palle lo so ma il tipo in chiamata ha di nuovo l'audio potentissimo va bene d'accordo vai regolativi allora aspetta no 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 ti stai fermo no perché tanto dipende solo da noi perché noi abbiamo esagerato col volume no è che dipende però mette a cento a sto punto come era prima a cento se non siamo tratti adesso dovrebbe essere aggiustato andiamo a noi uomo d'affari il number one contender al titolo caos di shibata difenderà la sua shot perché è stato sfilato nel backstage da il buon Totti esatto pubblico di e raccontiamo anche della genesi di questa opportunità per il buon Totti no cosa mi sapete dire voi che siete più informati Totti prego prego e beh Totti intanto ha dimostrato di essere di volere effettivamente al cento per cento questo title shot e nel backstage non si è non ha dato diciamo non si è tirato indietro nei confronti della sfida che avrà davanti quindi ricordiamo anche la storia di Totti Totti è questa persona che si è presentata la sequel ha detto io sono Francesco Totti potete vedere che non sembra proprio Totti però per il momento ha dimostrato forse di poter valere persino il nome del re di Roma chissà se questo sarà il culbine del suo arco narrativo ed otterrà finalmente una title shot per il titolo maggiore lo scopriamo insieme io inizio a pensare che però non si è il vero Totti eh eh sì esatto questo lo dobbiamo vedere dobbiamo valutare non lo sappiamo il muser è sconosciuto ancora del buon Totti ne vede il debuttare ok valutiamo quali match guardare chiediamo anche alla chat a questo punto visto che abbiamo degli utenti attivi e sentiamo insomma esatto quali match preferireste guardare eh sì lo so la Chaos Progressive con lo spettacolo meraviglioso è incredibile siamo bravi quali match volete vedere perché dobbiamo decidere che match guardare e che match simulare io direi voi intanto di che pari siete ma io guarda sicuramente il benevento lo vorrei vedere uomo d'affari contro Totti sono curioso di sapere chi vi c'era e poi lo valuterei l'open air anche l'open air sì perché è un bel match per il titolo KFC quindi sono due buoni work mister marra vedo che possa regalare soddisfazioni questa volta esatto lui è uno molto atletico è uno che ci sta dietro al fisico è solo voi l'idolo di mister marra è Arnold quindi vuole vedere Gesù fare a botte è contro l'abitante di Bettovaglio oltretutto è vero è vero voglio vedere è vero va bene va bene l'altro è un suo bischio il match quindi simuleremo il match per il titolo KFC tra Ronaldinho e mister marra vediamo chi sarà il nuovo campione mister marra mister marra riesce a vendicare la morte di gionzina gionzina guarda Niccolò io ti avevo detto che secondo me mister marra poteva farcela Ronaldinho si vedeva che non era pronto a tenere testa al vecchio gionzina strano però eh io non vorrei che mister marra avesse usato un trucchetto per vincere questo questo incontro come è morto gionzina come è morto le circostanze non si sa non si sa per cambiare dice sia morto ad atlanta si è morto ad atlanta e sappiamo che l'ultima scelta degli oscar ha istigato all'omicidio probabilmente quindi ci informeremo e adesso passiamo al primo match della serata o del pomeriggio scegliete voi che ricordiamo essere un submission match quale sottomissioni potrebbe utilizzare Gesù secondo voi ricordiamo intanto cosa è un submission match un match che si può vincere solo tramite tecnica di sottomissione esatto se non me lo manderà a dormire all'abitante di Bettovaglia con una bella sleeper hold c'è la roce per forza siamo ad entrare nell'arena della che ricordiamo essere situata alla normale di Pisa attenzione però attenzione ecco l'entrata del buon Gesù all'alto l'arroganza in contraddizione con i valori del cristianesimo che Gesù mostra verso la via del ring vorrei venire a dire gloriosa l'entrata no? si tra l'altro ti ricordo facendo un po' di meta play di schippare tra poco la sua entrata perché se no ci rimaniamo mezz'ora a guardarla perché l'ultima volta vabbè però l'abbiamo l'arrivo del signore esatto si si ecco attenzione da notare che cosa ha sulle mani eh io non voglio dire niente esatto e l'aminescenza anche mentre arriva abitante di Bettovaglie di Bettovaglie Gesù turna il eh dobbiamo scoprirlo non si sa non si sa o meglio lo scopriremo eh eh non lo sappiamo non sembra per niente spaventato nonostante stia per affrontare una divinità sarà incoscienza oppure chissà eh ricca ricca ti stavo proprio per dire questo secondo me lui si è fatta una bella scorpacciata di tennezzini come solo lui sa fare eh sì crossline di Gesù che inizia in contro questo Gesù lo vedo un po' rallentato non so come mai sì non so perché il ritmo di questo mezzo è partito con questa velocità non lo so gomitata stordente potrebbe aver usato una delle sue abilità no il rallentamento del tempo magari noi stiamo vedendo tutto a rallentatore eh chissà ah comunque lo sta prendendo a ginocchiata e nei denti perché perché sì perché sì attenzione che giustamente è un high fly dall'alto dei cieli dall'alto dei cieli lo colpisce è una govitata avreste mai pensato di mettere Gesù che picchia un barbone può succedere solo sulla caos per il resto la sua final è la sacra singola eh beh certo ho capito attenzione che pensavo se era la schiena è la crucifix powerbomb la crucifix powerbomb attenzione la sottomissione ah giusto giusto e invece no oca ha sviluppato sta strana abilità di poter rallentare il tempo per ora sembra giocare a suo favore per i più appassionati nelle indie questa cosa viene fatta davvero certo esiste uno spot dove tutto il pubblico rallenta e reagisce all'allentatore a quello che succede davvero è vero no si non ci sono molte prese molte tecniche quindi sono tante botte a mare ciocco calci e ginocchiate sulla carica sulle spalle siamo one driver offende il padre offende il padre offende il padre e vola attenzione un volo con una placcia incredibile su Gesù questi sono i test che fa sull'arno eh sì molte volte la posizione si vede però la regia che ha fatto l'attenzione alle porte potrebbe essere effettivamente è possibile però però ricordatevi che esistono altre entità di vive nella Chaos Progressing e chissà che questa entità non l'abbiano aiutato le abbiamo già viste nella card in precedenza esiste attenzione attenzione rock kick oddio di Gesù fa super kick super kick che match guardate le catene che ciondolano dal giacchetto dell'abitante di Bettovaglie sono pericolose esatto non oso immaginare l'odore terribile l'odore di tennis ormai si sente in tutto lo stadio si confonde con l'odore naturale di abitante di Bettovaglie Gesù viene scagliato a terra Gesù poco reattivo in questa seconda fase del match anche se lui continua a essere lanciato ovunque come possiamo notare non c'è neanche il conteggio fuori dal ring quindi possano spaccarsi di botte quanto vogliono oddio di abitante di Bettovaglie che non ha paura di cadere su superfici rigide visto che abitante è abitato si è abituato a combattere in piazza di Bettovaglie che è molto più rigida fuori dal ring certo è abituato a cadere di testa su scalini almeno una volta a sera ha sviluppato un'altissima resistenza una resistenza alle botte alla testa non gli fa molto bene no 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 ma intanto ormai lui non lo sa che non gli fa bene stiamo parlando di un individuo diverso un individuo temprato ormai dagli anni di fatica ma nessuno ha provato più fatica di Gesù storicamente esattamente esattamente qui si inizia a vedere il suo background di Gesù nel nel wrestling giapponese è vero è vero è fuori fuoco perché decide di esserlo e poi non l'abbiamo deciso noi è una delle ragioni ricche per rendersi è una forma di mimetismo si rende i suoi contorni più sfocati per essere meno prendibili oppure un errore di regia non lo sappiamo mentre Gesù decide cosa fare di abitanti di Vettovaglia esulta ricordo che se volete potete collegare il vostro abbonamento Amazon Prime a questo canale abbonandovi tramite l'abbonamento Twitch Prime che è gratuito a un canale a vostra scelta se scegliete Radio Echo attenzione 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 la salita del sol l'assalto no che succede che foda non è possibile qualcuno è intervenuto ma lui è intervenuto chi è intervenuto crossline attenzione ecco è questa è una grande mossa di abitanti di Vettovaglia quando inizia a mettersi in posizione di Kung Fu vuol dire che rimembra i suoi tempi andati con l'allenamento del maestro Kungao però io vi faccio una domanda io vi faccio una domanda a parte Kungao avete notato che nell'intermezzo si è spenta la luce non siamo riusciti a vedere eh sì sì no non si sa non si sa più un'entità superiore magari che è in grado anche di controllare il volere dello stesso Gesù chissà ma di chi stiamo parlando eh non possiamo saperlo però sicuramente quello che è successo è molto strano ma forse forse hanno staccato la luce i Mega Punk che fanno parte forse la normale degli anarchici esatto perché ricordiamo che eh abitante di Bettovaglia è in squadra con Tossichiezzu un suo carissimo amico e bomba anarchica eh che non è un volo di Gesù eh sì sì l'abitante di Bettovaglia è parte dalla stable degli anarchici serie di stomp molte molte grazie si torna su riga eh sta preparando ancora la sua mossa finale la salita del paradiso ma abitante di Bettovaglia no abitante di Bettovaglia appena l'ha iscritto non so se hai notato dappena mandato il messaggio ci è ribattata la situazione quindi no perché lui non si arrende ma si arrende sulle spalle oh mamma no 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 però nessuno ha fatto la sottomissione forse non nessuno ha fatto la sottomissione forse non nessuno ha fatto la prima sottomissione adesso quella di sottomissione eh probabilmente si eccola qua eccola qua prende per i capi di Gesù punto debole attenzione ma specie di crossface non è il più tecnico del mondo abitante di Bettovaglia dobbiamo perdonarlo no vediamo se Gesù si arrende e niente è che Gesù non si arrende mai lo sappiamo eh diciamo che ha avuto storicamente un'alta resistenza Gesù attenzione sleeper hold vediamo se ho chiamato il finale ragazzi potrei aver chiamato il finale sleeper hold vuole metterlo a dormire attenzione attenzione si sta addormentando no vedremo se morirà una seconda porta andavo si entri abitante che ciumone eh si riconosce l'abitante di Bettovaglia un secondo questo è vero è vero potrebbe essere la verità e ancora cerca di colpirlo con fiss in your eyes fiss in your eyes attenzione è finita è finita è finita di nuovo interviene con la sua versione modificata della crossface la catacomba nera attenzione la catacomba nera catacomba nera il Gesù potrebbe rendersi la catacomba finale attenzione potremmo assistere a un cambiamento nella storia invece niente Gesù Cristo sembrerebbe veramente immortale attenzione crossline blocca ancora il tempo cioè rallenta il tempo rallenta di nuovo il tempo rialza abitanti di Bettovaglie e ancora ma deve farlo cedere non può schienarlo è una interessante teoria dicono che hai pugni chiodati è per questo che fa più male potrebbe essere vero in tal caso forse guarda chi sta piantando i chiodi nell'emeridio mentre tanto ha ceduto ha ceduto no no grazie ai chiodi di Gesù i chiodi di Gesù è esattamente è arrivato a dover utilizzare la sua tattica più scorretta per riuscire a vincere questo incontro blasfemia 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 lo è stato buro con la vittoria ma si sa non tutti possono essere salvati eh sì e a questo punto Gesù è il number one contender al titolo Kebab Knight detenuto da Cap mamma mia che match match comprato forse sì forse sì sono dei mixed reaction come si dice in questi casi esatto dei fan di abitanti di Bettovaglie che non sono d'accordo dicono che ha comandato dal padre eh chissà mentre però questo è da capire perché comunque non dobbiamo scordarci chi è andata via la luce a un certo punto o l'università ancora una volta non sta pagando qualcosa oppure Mattia non lo so secondo me c'è qualcosa sotto qualcosa qualcosa puzza qua c'è qualcosa di strano però Gesù ha vinto chissà che questa questa variabile non si ripresenti durante il match titolato che Gesù avrà conto che è è vero vediamo un po' mentre io simulerei questo tag team match e i vincitori sono Mahatma Gandhi e Trump il più tra i più misteriosi della CPW il buon si dice provenga da la paese del centro america intanto adesso possiamo passare al nostro mini event mini event ricordiamo uomo d'affari difende la sua title shot per il titolo caos contro Totti che lo ha sfidato per ottenere un'opportunità al titolo detenuto da Katsuhoy Shibata Madò Totti che poi non si sa bene che tipo di Totti Totti sia esatto lui dice di essere Francesco Totti la Katsuhoy Shibata ha fatto il contratto come Francesco Totti perché il nome sia un certo Stai Power noi non potevamo rifiutare però non si sa se è Francesco Totti ma è Ronaldinho no Ronaldinho potrebbe essere un parente chissà non lo so però Ronaldinho è diverso non facciamo confusione eh piacere ok una vaga somiglianza forse nei lineamenti ma leggera leggera peccato lui è alto 2 metri e 50 si esatto entretanto entra uomo d'affari che difenderà tutta sta roba è 10 grazie mille da notare il Rolex dorato guarda che non è uomo d'affari vuol dire che nemmeno uno di quelli no Rolex medioambi si è Rolex eh si non si sa perché il distruttore non è il distruttore il distruttore il distruttore eh non si sa non è stata la nostra scelta non si è tutori chi è? Totti pronto allo scontro vedete con la manghietta alla tenuta della Roma difende i colori giallorossi ora che la Roma in campionato sta facendo molto bene Totti è esaltato e quindi le sue statistiche aumentano in vista di questo incontro a quanto pare dopo dopo aver finito la carriera professionistica nel calcio si è dato al West e anche al McDonald's a giudicare dal suo aspetto non gli basta il mondiale over 35 che gioierà quest'estate è pronto anche a diventare campione caos e questo è il suo momento io non vorrei essere offensivo ok però non capisco come possa essere finito con questa forma fisica alla fine ha corso sempre tanto nella sua vita ma la forma fisica a volte inganna ma non vorrei che diciamo avesse qualche problema ricordati che per essere wrestler essere eclettici è fondamentale quindi più si è strani e più il proprio stile ne viene hai ragione infatti vedi un uomo da fare che batte in camicia esatto anche lui vuole rimanere imprevedibile non si leva neanche i Rolex per l'incontro ah dicono che sia per colpa della rottura con Ilari è possibile è possibile è possibile comunque non uno scontro facile il primo di Totti con l'uomo d'affari trovandosi davanti a una montagna del genere l'uomo d'affari ha dominato l'ultimo match ha sconfitto un sacco di superstar stranissime quindi è uno che è pronto a ogni evidenza ma Totti invece sappiamo essere il fenomeno dei fenomeni uomo d'affari ha un piano sicuramente penso anch'io eh vedo che sta colpendo gli altri si sta lavorando agli altri alle gambe chissà forse forse si vuole spezzarvi le gambe schienamento uno due allora ricordiamo la meravigliosa attristazione nella battle royale di uomo d'affari che ha anche eliminato Gesù eh sì è riuscito a eliminare persino Gesù che potrebbe diventare campione hip hop night evitato lo splash di uomo d'affari a il sweep forse vuole buttarlo fuori da vingola esatto manovra sull'epron di Totti attenzione oh 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 Totti Voi sapete per caso dove si è allenato in questi mesi Perché questa mi sembrava una cosa Molto da indie Mi è giunta voce Che a Trigoria è stata aperta Una sezione apposita Dove è stato allestito il ring Per permettere a Totti di diventare un buon wrestler È stata fatta anche un'intervista Da Angelo Mangiante Che ha raccontato il suo percorso Verso il ring Serie di stompe nel frattempo Ah ho capito Che fa? Che incredibile Ragazzi Io non vorrei Non vorrei dirlo ma non credo sia il vero Totti Mi dispiace l'ho detto Infatti c'è da che le zia Trigoria Cos'abbiano combinato Cioè perché Perché hanno investito su questo progetto Passati dal position al twerking Esattamente No non lo vuole sul ring Lo vuole tenere fuori dal ring Monta sulla terza corda Facilità fuori dal ring Tizione No Ancora il twerking È un twerking Seguito dal muzzolo È un faccio È un faccio Virando da solo Però è Totti Esatto Cioè posso dirlo Esatto Che con questo twerking strano Nemmeno se fosse andato a giocare a Real Madrid Se avrebbe stato Averbe fatto Nel frattempo uomo d'affari Bestemmia Eh sì Ma questo suo nervosismo Indica che forse Siamo a sette secondi fuori dal ring Esatto Eh Vuole vincere di rapina? Totti Sarà interessato a rientrare Ok Meno male Guarda come Oh Era tutta una strategia A quanto pare Sì Un ginocchiato Ma non può farlo È troppo atto Si spezia Guarda lì Odda E lo schiena Uno Due Due Niente È vero Potrebbe averlo fatto Lo blocca a terra E mostra I suoi muscoli Il potere aziendale Ma anche la Roma Può essere considerata un'azienda Ricordiamoci Ma ricordiamoci Che non fa più parte la Roma adesso Oh Mettretanto Può fregare Uomo d'affari Oh Forti Uno Uno Che fa? Il suo cesto Direi Inconfondibile Quello sgrande Di Totti Vediamo un po' Un montantone Montante Nei testicoli Di Totti Le parti basse E questo fa il doppio male Visto che Forse non poteva più Usarli In una sua futura Seconda relazione Colina Attenzione Big boot Big boot Schienamento Schienamento Uno Rubito interrotto Ci vuole bene Meno dinamico questo match Rispetto all'altro Qua vediamo un uomo d'affari Molto legnoso Si vede che la sua stazza Si fa sentire Non può muoversi come Gesù Mentre Totti è leggermente strano È il modo di lottare È difficile da Da etichettarlo E lo schiaccia a terra Lo umilia Cioè Non vuole solo vince E poi diamo Un uomo d'affari Tecnicamente ha tutto da perdere Esatto Potrebbe perdere La sua title shot Che si è guadagnato Con grande fatica Magari vede Questa sfida Con un affronto Nei suonfronti Uno che è appena arrivato Come Totti Per arrivare avanti O come sale agilmente Sul ring Mostra ancora più acidità E rendita La gomitata La gomitata degli affari Schieramento Schieramento Uno Due E Totti Non vuole vendersi Non vuole vendersi Di fronte a niente Non è così Che Che ha portato avanti La sua carriera da calciatore Non si è mai avreso Vediamo E ancora crossline Uuuh Mi chiede di alzarsi Spinebuster Spinebuster Schieramento Uno Due Ma Totti Niente Totti Non c'è E' stato male Per troppo tempo Vuole Vuole far vedere Di che pasta è fatto Oddio Spinebuster Interrotta Con una ginocchiata Nel naso Pazzesco Rialza Uuomo da Fai Uuomo da Fai Ristabilisce Il subdominio Oh no Uke kick Eh si Uke kick Vediamo Che cosa è in mente Adesso I sweep Gomitata di incoccio Gomitata di incoccio E' finita E' finita Gli è salita Oh Spia E' devastante E' finita Uno Due 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 No Totti Non c'è L'è Io non penso Che un uomo da Fai Si aspettasse Tanta resistenza Da parte di Totti Una resilienza Degna di un campione Chiama il pubblico Forse quella è la sua Final Ma più che il pubblico Dimostra Che lui è il più forte Di tutti Questo è un uomo da Fari Molto Molto agressivo Molto feroce Continua La sua tattica Di colpire In volo Totti Ci divano Roba Lazio E' sì E' vero Indossa Una terza Sina Uno Due Due E' niente Il pubblico Non ci arrebbe Ci sono diversi Ultrade Della Lazio A Pisa In questo momento Alla normale Che stanno Tifando Uomo da Fari E non so Tra luce Il fatto Che Totti Vedendo i colori Della Lazio Aumenta le sue abilità E diventa più difficile Da sconfiggere E' certo Quindi uomo da Fari Devi tenere di conto Sta subendo molto Uomo da Fari Comunque lo sta massacrando Sì Lo sta riempendo di bo Dobbiamo dire Che la cross pro resting Non è Insomma Facile fare Un incontro di debutto No No Eh esatto Sicuramente Un contesto strano Nel quale Attenzione Otti Rivalta la situazione Oh attenzione Ma se lo carica Sulle spalle Powerbomb Devastante Devastante Uomo da Fari Si rialza immediatamente Ho un destro assurdo Che cosa vuole fare Ancora Pulisce le gambe Di Uomo da Fari Del gigante Uomo da Fari I sweep Back body drop Ancora Una 6 di pugno Chop Sono carica Sulle spalle Con che forza Attenzione Devastante 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 La tecnica Del Colosseo Che cosa hai in mente Travolacci Da fuori Questa vuole fare Elbow drop Elbow drop Va per lo schienamento Uno Due Due Tre Totti Pazzesco Incredibile Totti Totti è il nuovo Number one contender Al titolo Lander Incredibile Io non so se questo è davvero I Totti e tutti noi conosciamo Ma comunque Ci ha fatto sognare Totti È stato così Clutch Incredibile Dobbiamo a lui Tanto no Eh sì Esatto Inaspettato Grande vittoria Inaspettata Francesco Totti Si guadagna la sua title Per il titolo Chaos E proseguiamo Con le nostre avventure Ma io Ragazzi Comunque era l'underdog Alla fine È riuscita a sopravvivere Alla potenza di Uomo d'Affari È incredibile Infatti io non credo Che Uomo d'Affari Smetterà Cioè Finirà qua Questa faida Fra loro due Esatto Esatto Hai ragione Chissà se nascerà Dell'odio Eh sì Io lo vedo Molto rancoroso Uomo d'Affari Eh di faccia Sembrerebbe Guarda quanto è serio Vedi che Il suo sguardo Non è lo sguardo Totti invece Vedi Totti invece Come a parte Che comunque Da queste immagini Che posso dire Che ripeto Secondo me non è vero Totti Però vabbè È un'idea È un'idea ragazzi È un'idea Potrei sbagliare Io ancora non mi esprimo Non posso sapere Però comunque È più tranquillo In generale Sì Ci porta Quella tranquillità Del fenomeno Del campione Del fuori classe Sì 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 Proseguiamo Poi non mi piace molto Come Uomo d'Affari Mostri il suo Rolex Eh sì E tanto Aspetta Voglio vedere una cosa Perché Eh bravo Guarda un po' Se vai alla settimana dopo Ah metti money in the bank Perché sennò Poi non Perfetto Che altrimenti Siamo di fiolta Io ti direi Di andare Alla Dove siamo arrivati Quanto settimana Sì Siamo allo show Prima di money in the bank Giusto Prossimo evento Sì è vero Ha definito Totti Il vero Gesù Perché non ha fatto altro Che assorbire i colpi Di Uomo d'Affari Per tutto il match E poi Dimostrare che era il migliore Dice nei commenti Forge l'altra guancia Sì È vero Ha rispettato i valori Della cristianità Esatto Sconfiggendo Un uomo d'Affari Nel frattempo abbiamo Un match incredibile Mark Curry contro Cap In uno steel cage Ok Va bene Questa Questa cosa è incredibile Attenzione Attenzione La prima volta in cui The Mour Man E The Great Khali Non sono No è vero No No sì Sono insieme Sono insieme Vedi J Uso E Sherader Tanto il J Uso L'avevamo licenziato Non mi ricordo più Non mi torno Comunque Comunque The Pechino Express Come hanno detto Di potersi chiamare L'Emu Man E The Great Khali E Coffee Kingston Anche lui Licenziato Ma non si sa Per chi torna Insieme a State of David Poi Un altro match Per il titolo No holds bar Ok Ronaldinho Mr. Mara Mr. Mara La prima difesa titolata Big Show Big Show contro Gesù In un Iron Man match Incredibile Incredibile Table Smash Per il titolo Qua C'è un EFRO E forse Vediamo E dobbiamo mettere E l'event È la fine Silvio Berlusconi Contro Bomba Anarchica Il finale Della rivalità Ma possiamo vedere Che Berlusconi Ma non è solo Dei nuovi alleati Donald Trump Dopo la sconfitta Dell'ultima volta E Lupaccio E Lupaccio Fedrix Quindi Ma Ma questo Cosa vuol dire Secondo voi Che cosa sta succedendo Si sta formando Una strana Un'alleanza Un'alleanza Uno strano gruppo Gli equilibri Ma Bomba Anarchia è solo Eh Valedissimo Eh ma L'Anarchia è sola Eh si Nell'Anarchia si agisce Soli Allora Dobbiamo fare Delle modifiche Esatto Dobbiamo modificare Allora Intanto Mettere in palio Qui No Abbiamo un Gesù Contro Contro Cap Ah è vero È vero Quindi modifici In uno Steel Cage Per il titolo Per il titolo Perché è il primo Contendente Esatto Ovviamente Allora F Il primo match Bomba Anarchica Da solo E beh In realtà È un È Uno contro uno Anche contro Berlusconi È solo Che Bomba Anarchica Possiamo dire Che Non è amico Di nessuno O meglio Ha degli amici Ma forse Ha detto a loro Di stare fuori Dai piedi Perché lui vuole Che lui è onesto Forse Si Si sa I buoni Di solito Rimangono Soli Di fronte Dai Perché non mi fa modificare I macchie Ancora una volta Ricordiamo Il potere dello stato Contro L'anarchia totale Scusate Interessi Dei primati Personalizza Partecipanti O sennò È più facile Ok Il cage Ferma Oh Ok Gesù Gesù Vabbè Vai agi Sì sì Tata Tata Sei oltre No No ma perché Sto sbagliando tutto Campione generale Rezionalizzata Ecco 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 Eccolo qua Gesù Contro cap Match wait Titolo Titolo Kebab Knight Dove è Kebab Knight Eccolo qua Kebab Knight Storia del titolo Di Kebab Knight Allora Primo detentore È stato Kepp Se non mi sbaglio O Big Boy Chunky No Kepp È stato Ah no No La storia è che un tempo Si chiamava lo Spider-Man Cioè Il titolo di Spider-Man Vinto da Big Boy Chunky Poi è stato sostituito Sempre nel regno Di Big Boy Chunky Con il titolo Del Kebab Knight E In seguito Kepp Lo ha vinto Si dice Si è stato forgiato Da Hassan In persona Nel suo laboratorio Ricordiamo Hassan è sempre presente Nei match In cui Si Si Esatto Il titolo Esatto Perché il campione Kebab Knight Ha A disposizione Una scorta Illimitata Di Kebab Che è la La cosa più Gentilmente Offerti Da Hassan Da Hassan Esatto Allora Poi cosa modifichi Questo lo elimino Di ADC Eh no Modificalo Lo modifichi E ci metti Al posto Di Di Totti Totti Io Lascerei un table match Che c'è più possibilità Io Se lo voglio vedere Perché ormai Siamo partiti Con la storyline Di Totti Questo l'ha visto Assolutamente Match per il titolo Il titolo Chaos Si Poi cosa abbiamo Cioè riteniamo Poi abbiamo No Si Si Ci siamo Chi sarebbe Questo Shibata Vabbè E' il campione È Shibata Che un tempo Era stato un membro Della Yakuza Trovato Da Vittorio Sgarbi Dopodiché I due Si sono separati E Shibata Ha mostrato La sua abilità Anche in un Triple Threat L'Inasell match Nel quale ha sconfitto Big Show E Okada Ed è il nostro Campione Che dovrà difendere Il titolo Proprio contro Il buon Totti Io direi di vedere Anche Silvio Berlusconi E Bomba Anarchica Come match Di conclusione Di rivalità Esatto Match Conclusione Della faida E gli vogliamo Mettere una stipulazione No Io direi di no Perché con la stipulazione Andrebbero via i manager Invece voglio Sono curioso di sapere Che cosa combineranno Quindi decidiamo Di vedere Di che match Vedere A questo punto Quindi Dai direi Quei titolati Vanno visti Ok quindi Gesù contro Cap Totti contro Shibata E Berlusconi contro Bomba Anarchica Ci siamo? Esatto Ci siamo Yes Allora Cap Si è fatto valere In passato Eh si E' un lottatore Molto Molto valevole Molto atletico E Ha già sconfitto Big Boy Chunky Che Ricordiamo Ha Per il momento E' uno dei lottatori Che ha ottenuto Più successo Nella course Pro Vesting Non è riuscito A completare La sua quest Di Grand Slam Champion Tutto grazie a Cap Che lo ha sconfitto Ricordiamo Stinkage match Arriva Gesù Come sempre Con grande Dall'alto Dall'alto Dei cieli Eccolo qua Questa volta Questa volta Però entrerà Nella gabbia La gabbia D'acciaio Forse potrà interferire Con i suoi poteri Ed ecco qua E' un campione Che mantiene il suo titolo Spider-Man Proprio a ricordare Che lui è il primo Campione Kebab Knight Della storia Speriamo che tutti Questi kebab Non comportino niente A livello Fisico Nel senso che Potrebbero appesantirlo In qualche modo Quindi speriamo Vada tutto bene Eh sì E' un titolo pesante Da portare Perché E' facile Puoi essere detraviato Le indiscrezioni Dicono che ormai Kef si alimenta Con 4 kebab Al giorno E' la sua unica Fonte di calorie Circa 6.000 calorie Ricordiamo Kebab Knight Champion Mentre Gesù Non so se Non ha bisogno Di No non credo E il suo fisico Lo dimostra Siamo pronti Allo scontro La gabbia si abbassa La gabbia d'acciaio No Quello Non c'entra niente Compatto Vi hai dichiarato Oh Kef Compagno di verende Di Totti Ok Finizioni E' subito Su quello E' una tale Gli stivali Risulta che sia Il cugino Di Rodrigo Taddei Non so se ve lo ricordate No No E' un ex compagno E' un ex compagno di squadra di Totti E' un suo cugino Alla lontana Ho capito Suplex Oh Kef vuole subito andarsene Subito a scappare Vabbè fa bene Vabbè fa bene No no è giusto L'obiettivo del match Ma Gesù Non glielo impedirà Così Non glielo permettere Così Alla fine E' Gesù che scegli Chi far andare in alto Esattamente Il giudizio Spetta lui In qualche modo Gli ultimi saranno I primi Oppure I primi saranno Gli ultimi Diciamo che il giudizio Universale Forse Sarà Nefasto Per Kef Adesso Adesso E' Gesù Che prova a scappare Eh no Ma niente Questo non è il momento giusto Chissà se vedremo Qualche manovra estrema Magari qualche suplex Dalla cima della gabbia Un po' ci spero Però è sicuro Per ora sembra Che i combattitori Stiano continuando A cercare di uscire Più che combattere Montante Si Di ferro La virgine di ferro Però la virgine di ferro Se non ricordo male E' lo strumento di tortura No? Si C'è quella specie di sarcofago Con Molto dolore Evoca molto dolore Quello strumento Non sappiamo Se Gesù Ha dovuto Guarda come va Ad infierire Sulla schiena Si Intanto Ancora Ha bisogno di quei kebab Forse Gesù Non si sa Forse vuoi sfamare i popoli I suoi discepoli Le persone nel mondo Forse le vuole dividere E trasformarli in vino Non lo so Non si può I miracoli Non si sa Di Gesù Di Gesù E poi Di Gesù L'hanno ruinato Sono tra le ragioni Perché lui ha perso La prima shot Alla vita Attenzione Cerca di uscire Prova da scendere Un'overselling Un'overselling Di Gesù Che Da metà gabbia La moltiplicazione Di kebab Esatto Debbia diventare Chissà che non sia un piano Di Hassan 2 Per ottenere la moltiplicazione Infinita di kebab E quindi Guadagnare il più possibile Non so se offeda tutto All'ultima scena Non penso No E se li terrà tutti per sé Possiamo dire una cosa Probabilmente all'ultima scena Non sarà invitato capo Eh no Eh questo è certo La sua ultima scena Forse è proprio questo incontro Big but Una delle tecniche preferite Di Kebab Oh Drop x sul ginocchio Spezzartelo Che sta per fare Oh Ferisce Gesù Che è abituato alle ferite Ma non si aspettava Di apri il cranio Di apri il cranio Comitata Strong style Applicato da Kebab Ma ci sono Prova la crossline Serie di comitate Con la middle kick Oh oh E il sweep Rimanda indietro E comitata un po' per te 1 2 niente vicino è andato molto vicino che gomitata che mossa spettacolare una vita precedente cerca di avampicarsi e di fuggire cerca di ascendere è molto vicino è molto vicino come l'ultima volta alla fuga molto vicino questa volta non tornerà forse capo potrebbe non farcela Gesù è una parte Gesù se ne va Gesù se ne va ma Cap glielo vuole impedire lo colpisce attenzione questo è un momento concitato è su limite potrebbe essere il vento non può lanciarlo di sotto da lì eh si è molto pericolosa questa situazione Cap e Gesù sono alla stessa altezza Cap continua a colpirlo adesso è lui che sale che ho provato momento di grande tensione Cap ha spattuto la gabbia si infelisce il momento di essere roma sapevano entrambi Gesù abituato alle torture romane non ha paura di niente in uno steel cage match i due entrambi però non si esatto sono sincronizzati combattono sono scivoli della gabbia attenzione Gesù si ferma attenzione quest'oggi sarei con me in paradiso direbbe Gesù esatto momento molto concitato nooo all'interno del ring Cap e a questo punto mi sa che potrebbe essere finita attenzione potrebbe Cap alla sua veste si è incastrata si è incastrata si è incastrata sulla gabbia ha avuto una grande occasione Cap glielo ha impedito ho preso un bel bump dalla cima della gabbia però si è rialzato immediatamente non ha paura di nulla che cap che sfida i due li vedo incespicati soprattutto Gesù con i suoi soliti sandali non molto adatti alla situazione no direi di no infatti ha proprio provo a fuggire vediamo se riesce a mantenere il titolo per scappare ma Gesù che lo impedisce entrambiando con la testa aperta ricordiamo perdono sangue entrambi ma è ciò lentissimo ma è ciò lentissimo ma Gesù ma Gesù va a prendere un up dalla cima della gabbia ma si alza immediatamente con la resilienza che lo caratterizza cerca di impedire al Camp la fuga e di niente il tempo è dato ormai i due lottatori si sono staccati di stare all'interno del vingo vogliono combattere solo sulla parete della gabbia vogliono fuggire ormai è solo quello l'obiettivo attenzione che botta si stanno schiantando sulla gabbia no no oh ancora un bump di collo caduta di collo schieramento uno assolutamente niente oh uno due no Gesù ah Gesù però non si arrende che fa? uh Gesù ha un comeback e lo utilizza che sia la fine eh scappa provo a fuggire il momento in cui Gesù riesce a mettere in atto la sua fuga eh si sta cercando la sua resurrezione sportiva a ottenere il titolo che è Bob Knight uh ma Cap se lo carica sulle spalle powerbombizzato e adesso indebolisce le gambe di Gesù proprio per impedirgli attenzione che Gesù incredibile nessuno vuole rendersi non è spezzabili questo conferisce prestigio al titolo che è Bob Knight e risponde con la stessa manovra ma attenzione carica alla mossa finale eh si è pronto alla salita del paradiso ma Cap oh lo colpisce doppio drop kick doppio drop kick che cosa eccola salita del paradiso incredibile schienamento schienamento subito dopo uno due tre che incredibile Gesù Gesù diventa campione Kebab Knight e ottiene un'ascolta infinita di Kebab da San 2 incredibile con la preghiera tra l'altro eh Gesù riesce a sconfuggere Keppe esattamente esattamente quant'impegnamento alla preghiera si esattamente si esattamente beh beh ha funzionato gli ha dato energia ha vinto di riduzione del cristianesimo su questa cosa perchè chissà dovrà essere aggiunta la dottrina il Kebab c'ha la moltiplicazione del pane la moltiplicazione del Kebab Kebab esatto e invece adesso chissà che non diventi un capo stipite anche delle tradizioni cristiane Gesù è una una scoperta posso dire all'interno del ring della caos si perchè è sempre passato da pacifista eppure è in grado di saper menare le mani è dimostrato di avere il carattere giusto per essere un campione esattamente adesso ci aspetta un bel table match eh si tra Shibata e Totti mentre intanto andiamo a assicurare questo incontro che va beh perché è undicesimo da oggi va bene assicuriamo questo strano incontro in cui vediamo individui particolari ma potevamo metterlo per il titolo ragione ma è Kofi Kingston e Statue of David Statue of David questo team strano si aggiudica a questo stravagante incontro ma non è finito lì no prima difesa vediamo questo Mr. Marra contro Ronaldinho no ho sbagliato qualcosa no ok no Ronaldinho Ronaldinho ridiventa campione e quindi Mr. Marra perde subito il titolo questa è una grande botta per Mr. Marra ed eccoci qua eccoci qua eccoci qua al nostro incontro valevole per il titolo maggiore il titolo caos Totti che ha appena sconfritto uomo d'affari sfida il campione reggente Katsuori Shibata in un tables match vediamo vediamo vinci l'incontro se sei capace di schiantare su un tavolo il tuo avversario e in questo caso diventi anche campione ricordiamo che una delle mosse finali di Totti è la gomitata dal Colosseo che abbiamo visto nel match precedente esatto ed è una mossa che che si sposa bene con la stipulazione dell'incontro se io devo essere sincero però credo che Shibata in questo senso sia più avvantaggiato ci hanno salutati che se ne sono andati non so chi ecco eccolo qua ricordiamo questo incontro importantissimo per il titolo caos senti l'arena senti l'arena eccolo eccolo qua grazie mille ciao ecco Totti per l'incontro più importante della sua carriera ancora più importante di quel pubblico a Roma nel quale con il suo gol ha deciso lo scudetto 2001 col contro il Parma ricordiamo eh sì un Totti che si è guadagnato questa title shot con il sudore dopo è stato tumefatto da uomo da file eh sì devo essere sincero io se dovessi scommettere purtroppo direi che la partita è più in mano a Shibata eh potresti aver ragione è una grande squadra ma Totti non ha mai voluto giocare per le squadre che vincono sulla carta lui è sempre rimasto fedele alla Roma ma oggi non ha con sé i suoi compagni di squadra dovrà pensarci da solo contro il buon Katsuhoy Shibata esperto dello strong style giapponese e grande campione della Chaos eh esatto esatto con un passato nella Yakuza esattamente e questo l'ha reso strong eh sì violento marzialista inamovibile inamovibile cammina per arrivare sul ring ricordiamo Shibata ed è successo davvero è quasi morto come tutto quello che succede nella Chaos Pro Wrestling esattamente è quasi morto in seguito a un incontro ehm con Katsuhi Kaokada è stato dovuto portare è stato dovuto è dovuto andare all'ospedale in urgenza e si è salvato per miracolo si parlava di anno si parlava del 2018 i giapponesi i giapponesi sono dei default si 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 attenzione una delle tipiche mosse con il suo con il suo con il suo balletto ancora lo sta umiliando sta sbeffeggiando la Yakuza eh sì sbeffeggia la Yakuza l'ironia italiana contro l'orgoglio giapponese eh sì in questo caso anche il Kino giapponese esatto eh chissà se vedremo un nuovo campione chissà entrambi fuori dal ring dipende tutto dai tavoli Totti prende il tavolo sì i tavoli sono un po' il pallone da calcio di questo incontro oh si è sentito qua dal nostro studio eh sì uh schiaffo schiaffo attenzione calci oh schienata sui gradoni Submission Submission subito cerca di spezzare un colok che ciò che Totti ha di più prezioso assolutamente ha colpito il sinistro il destro di Francesco Totti i cucchiai i cucchiai ancora disponibili salvo romitata attenzione schianta entrambe le gambe il Totti si sta concentrando molto sugli art inferiori sa che potrebbero essere la carta vincente adesso sono la caratteristica principale di Francesco Totti a questo momento il match è un po' commentato nessuno dei due è riuscito a stabilire un vero dominio schianta sulle barricate vuole fargli veramente del male forse attenzione schiantato sulla barricata e big boat devastante uuuh social kick attenzione una delle cose più l'umilia 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 dello stesso campo è vero questo è un confronto di stili di cui non avevamo parlato la final di shibata è proprio un social kick ma chi meglio di Totti che capace di eseguire un calcio si è scordato del tavolo nel frattempo come? un nuovo spettatore un nuovo spettatore eh? di nuovo sul ring questa volta shibata ha il controllo del tavolo uuuh madonna faccia di Totti ha già inclinato il tavolo come potete vedere a forza di sbatterglielo in faccia attenzione perché un table smash può finire da un momento all'altro in questione di attimi cruciali uuuh incredibile del calcio di Totti di una tecnica che non mi sarei mai aspettato da parte di Francesco Totti in questo punto si merita ben alto uuuh attenzione uuuh tutte manovre molto potenti tra l'altro si strongman ai shweep è shibata a prendere il controllo della situazione manca la gomitata lo colpisce gomitata al busto è ginocchiato al busto scusate mentre ricordiamo che shibata non ha tantissime tecniche di sollevamento quindi forse parte un po' svantaggiato nell'obiettivo di schiantare su un tavolo uuuh infatti lo sta facendo andare K.O. con una serie di colpi incredibili e forse questa è la sua tattica non devo dirlo finchè non sarai in grado di sollevarlo ahhh doppia ginocchiata sul petto di Totti sbata è uno striker fenomenale attenzione slide lo rilancia dentro a Ving ma Totti si rifiuta allora lo lancia sulla barricata sei di pugni anzi un pugno solo attenzione il match potrebbe finire no barricata e calcio devi stare attento shibata non devi traccheggiare un sacco di colpi si sta dimostrando un vero e proprio il degno campione della chaos shibata lo sta massacrando di colpi ma Totti è lo sfavorito il pubblico va invisibilio appena Totti reagisce eh si ci ricordiamo no il tributo che ha avuto per occasione del suo ritiro in occasione del suo ritiro all'olimpico lasciamo su eh si nonostante il grande amore che tutti noi proviamo con fatti shibata eh si oh oh attenzione attenzione potrebbe essere la fine potrebbe essere la fine potrebbe essere la fine potrebbe essere la fine no shibata ci accadì potrebbe essere il campione attenzione vieni di sotto il tavolo si piega ma non si rompe che momento eh si oh troppo vicini a quel tavolo oh Totti Totti si rivela mortante back elbow eh si e lo impicca eh pericoloso che rischio della terza corda il gol eh no è un pazzo è un pazzo è un pazzo ha rischiato di perdere l'incontro ricordiamo che ci può vincere solo schiattarlo da feciaglio sul tavolo qua ha deciso di di mettere a rischio l'intero match solo per dare spettacolo qua l'albito l'avrei potuto giudicare la fine dell'incontro però vorrei farvi notare secondo me le regole dell'incontro e c'è anche da aspettarci conoscendolo oltretutto vorrei farvi notare che l'albito non c'è esatto ma dal match precedente forse c'è un sì un piccolo problema anche chissà che che attenzione però no con l'aria al gusto lo carica sulla terza corda ah lo colpisce ma lo fa cadere totti non rimane là sopra ogni possibile potrebbe essere oh attenzione 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 no scimata lo vuole portare sul tavolo e niente l'indicatore che manovra è la carenza di mosse di prese di shibata eh sì si sta facendo sentire mentre tutti gli spettacolari infezione il posto finale sono certi scopo adesso tutti sembra essere sviluppo cibata deve solo piazzare il tavolo finito modo per vincere mette il tavolo all'angolo e dopo di che schiantarsi sul tavolo le prendi un altro attenzione scopo scopo totti scappa da shivata anche lui forse vuole prendere il tavolo no è altra scopo il match sta facendo sempre più complicato oh schianta il tavolo sulla faccia di shivata a prescindere da desiderio di questo match dobbiamo dire che totti sta facendo una grande prova un'ottima prestazione vogliono forse costruire un castello di tavoli un finale in grande stile per quello che è stato un bellissimo incontro attenzione ci ricordiamo questa manovra no no credevo che stesse per eseguire una dbt invece schianta shivata fuori dal ring con un pugno eccolo qua no no è inciampato da solo inciampa da solo attenzione si gioca sui dettagli e totti a prendere shivata a metterlo sul tavolo non può piazzare solo il tavolo è finito e invece decide ecco di scambio no è di vincere il titolo caos Francesco Totti senti il pubblico impazzisce i tifosi impazziscono Francesco Totti è il nuovo campione caos con un german suplex devastante sul tavolo incredibile incredibile che spettacolo bellissima è riuscito in due match ad assicurarsi il titolo più importante di tutta la federazione possiamo considerare questa vittoria il suo pallone d'oro spirituale finalmente ottenuto nella Caos Pro Wrestling così come è riuscito a diventare campione del mondo di calcio nel 2006 adesso diventa campione del mondo della Caos Pro Wrestling incredibile eh sì incredibile 18 anni dopo replica la sua vittoria a Berlino in quel di Pisa fantastico eh sì che dite ragazzi salutiamo con questa vittoria i nostri spettatori sì sì è un'immagine perfetta con questi immagini di trionfo io saluto Fabrizio e Tommaso si è passato e tutti quelli che sono passati e che si rivedranno in post le magiche avventure della Caos Pro Wrestling ringrazio Mattia grazie mille grazie a tutti e Riccardo grazie grazie esatto e anche da Niccolò un saluto alla prossima puntata e alle prossime avventure ciao a tutti ciao a tutti